Ancora nessun esito dalle ricerche del bambino e dell'adulto che si suppone siano scomparsi da Polignano a mare. Si fa strada l'ipotesi che possa essersi trattato di un falso allarme. La comunità resta tuttavia in apprezzione e non si esclude alcune ipotesi. Proseguono le ricerche della polizia locale, della guardia costiera, delle fiamme gialle e dei vigili del fuoco che hanno perlustrato la zona di largo ardito in prossimità della scogliera Strapiombo senza trovare alcuna traccia. Al momento inoltre non è pervenuta alcuna denuncia di scomparsa né a Polignano né nei comuni limitrofi. Di certo c'è soltanto la segnalazione fatta nelle scorse ore da un uomo del posto, noto gestore di un'attività di noleggio e imbarcazioni, che mentre faceva jogging ha notato un adulto e un bambino lasciare alcuni indumenti sugli scogli, un paio di scarpe legate tra loro e un giubbotto. Dopo pochi minuti l'uomo è tornato indietro e incuriosito dalla dinamica dei fatti. Due non c'erano più ma gli abiti erano ancora lì. Non ci sono altri testimoni né tracce delle persone presumibilmente scomparse. La questione resta sospesa.